Le decisioni sul PNRR e quindi sulla piattaforma logistica di Valle Ufita ormai appartengono al governo, spiega l'onorevole Gianfranco Rotondi, rispondendo anche alla richiesta di un tavolo sulla questione da parte del Comune di Grotta Minarda. Le regole le fa l'Europa e naturalmente c'è massima considerazione per il Comune di Grotta Minarda, ma non credo che sul PNRR ci sia più la fase dei tavoli, ormai le decisioni appartengono al governo, il territorio ha rappresentato le priorità a cui tiene, la classe dirigente unitariamente, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali hanno allineato la filiera istituzionale sulla decisione di mantenere l'investimento sul polo logistico e quindi penso che il caso sia abbastanza chiuso. In riguardo invece alla scomparsa di Silvio Berlusconi e dei contraccolpi sul centrodestra in Irpini, a Rotondi dice quando scompare un patriarca diventiamo tutti più vecchi, ma il centrodestra andrà avanti in tutte le province italiane. Naturalmente avvertiamo tutti una maggiore responsabilità, credo che sia la sensazione più forte dopo la scomparsa di questa figura immensa che ha segnato la vita italiana per 30 anni e per quanto riguarda il centrodestra ha dato le carte per 25, ma ancora adesso che non era più lui il leader del centrodestra, Giorgia Meloni si appoggiava nei momenti difficili, fino a due giorni prima. È stato vivo fino alla fine e questa è una cosa bella. La vita politica ha i suoi ritmi e naturalmente i suoi tempi. Berlusconi era già fuori per ragioni di età da moltissimi anni, quindi dalle elezioni del 2018 direi la sua presenza non è stata più attiva. La vita continua, come è giusto che sia, in tutte e cento le province italiane il centrodestra andrà avanti.